Allora, la Vale stava cercando di fotografare la nostra lista di ingredienti per i cocktail, ma non ce la fa più. Sto ridendo quasi da un quarto d'ora. Io sono un po' preoccupata, sinceramente. Mi sa che quando c'è il tempo in piedi le ha dato la testa sotto la cosa che aveva bevuto. Sì, sì. Comunque abbiamo deciso di buttare via l'ultimo cocktail, però ce va. Sì, veramente schifo. Adesso non abbiamo la forza di mettere via queste bottiglie. Dovremmo farlo domattina, ma mi sa che alla sola vista sboccheremo subito. Ma che schifo. Vabbè, intanto la Vale sta ancora in me. Ma riesci a respirare nel frattempo? Sì. Ah, ok. Allora, sotto la posta. Vai, tanto. Yeah. Che imbecido, dico. Oh, vorrei specificare che l'idea è stata sua. E non c'è niente. Va bene. Mi sono fatta corrompere dal suo culetto. Però... Vale, vergognati. Però è stata lei a spingermi su questa strada. Forse adesso ce la fa. No, come non detto. Vabbè. Ciao. 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 Ciao.